Paura nella notte fra lunedì e martedì in località Quadrivio di Campagna. Un 53enne è stato accoltellato agli arti inferiori dopo una violenta lite, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. L'aggressore, un 51enne di Eboli, dopo aver colpito l'uomo si è dato alla fuga non riuscendo però a sfuggire ai carabinieri. Per lui una denuncia per lesioni aggravate e possesso ingiustificato di un coltello. Il ferito invece è stato giudicato guaribile in 15 giorni.